Sì, mamma, sì sì, noi siamo chiusi in casa. Ma sì no, Dani esce solo una volta ogni 10-15 giorni per fare la spesa, sì sì. Sì, poi vabbè, abbiamo preso la farina, il sale, lo zucchero, cucino io la pizza, la pasta, le torte, ma sì sì, tranquillo, sì sì, poi c'è il latte per il piccolino, sì sì sì, ti entro il mio latte. Aspetta, aspetta che ti faccio salutare Dani, aspetta, aspetta, guarda amore, guarda, amore, guarda che c'è, Dani, Dani, guarda che c'è, la nonna, c'è la nonna, c'è la nonna, la nonna, ti saluta la nonna. Ciao, ciao pa, hai visto? Come va? Cosa stavi facendo? Racconta un po'. Sono in bagno, in bagno, dai. E cosa stavi facendo? Loro stavano cucinando, ah, cos'è che cucinate? La pasta stavano cucinando. Basta? Eh sì. Ah, come? Con lo zafferano dice, sì sì sì. Va bene, va bene, allora magari dopo ci fate sentire un po', no, il profumo. E come fanno a farci vedere? Vabbè, dai, la battuta, la madonna. Ciao, ciao, mi davo le mani. Ciao, ciao, buona cucina. La donna, la donna, la donna, la donna, c'è la donna. Guarda, amore, guarda, amore, guarda, ciao, amica, come stai? Tutto bene? Sì, sì, anche noi siamo sempre qua. Aspetta, guarda che ti faccio salutare, guarda. Ciao, Dani, guarda che c'è Sara. Chi è? C'è Sara. Ah. Hai visto? Hai visto Sara che sta facendo colazione, Dani? Ciao, amore. Sta facendo colazione con la torta. Ciao, Sara. Gli ho preparato io che l'ha finita. Eh sì, è visto. Come va? È visto. Poi c'è Amore. Dove sei? Prende l'occhio, dove vuoi? Che sia, amore? Cioè, a casa. Ah, domanda. Cioè, non so. A che? A casa dove? Domanda, ma dove? A casa sua. Cioè, una domanda come tu. Come va? E vede anche il caffè che gli abbiamo fatti insieme. Visto? Il caffè che gli abbiamo fatti insieme io e il piccolino. Ciao, Sara. Ciao. Ciao, amore. Ciao. Ciao, Sara. Ciao. Ciao, ciao. Una domanda, sì. Non ho capito, non ho chiesto. Ciao, e allora il gatto ce l'hai? Non ho il gatto. Il cane. Non ne ha. Allora, basta, è finita lì. Vabbè. Cioè, cosa fai? Giochi? Vabbè, andiamo di là. Ciao, Sara. Ciao. Andiamo di là. Ciao, Dani. Ciao. Ciao, Dani. Ciao, ciao, ciao. Guarda, guarda, guarda che finisce. Guarda, guarda. Mi sta finito tutta la torta perché mi piace un sacco. Guarda, 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 guarda. Ciao. Ciao, amica. Sì, sì, adesso abbiamo finito i farci raffaggini. Adesso vado a preparare la cena. C'è Dani di là che fa gli addominali. Anzi, aspetta, aspetta che così ti saluta. Aspetta, aspetta. Lei, vieni, vieni, vieni. Guarda, guarda. Eccolo, eccoci qua. Guarda, guarda, Dani. Ciao, Sara. Saluta Sara al telefono di nuovo. Perché sai che ci sentiamo due volte al giorno. Ciao, Sara. Hai visto, Sara, come fa bene gli addominali, Dani? Sì, stai visto. Sì, stai visto. Come va? Sì, stai visto gli addominali. Se ne pensi della fisica quantistica, del campo quantico, dell'universo, dell'intelligenza universale. Dai, forza, forza, forza. E ma è già finito, amore. Sì, sì, forza, forza. Ecco. Chi è? C'è Ale. Ah, chi è? Ale, l'Ale. Ciao, Ale, ciao. Ciao. In attesa che l'emergenza viene. Ciao, Ale. Tutto bene? Come va? L'anno scolastico è salvo e gli sedenti non pagheranno. L'anno scuola i tuoi? Per bambini? No. Ma non hai bambini, l'Ale. Ciao, Ale. Amore, amore, saluta il nonno. Saluta il nonno. Amore, saluta il nonno, Giorgio, il nonno. Amore. Amore. Amore, saluta la nonna. Saluta la nonna. Amore, guarda, saluta la nonna. Saluta la nonna. Amore. Dani, Dani, c'è mia mamma? Dai, amore, saluta. Amore, saluta la nonna. Saluta la nonna. Buonanotte. Guarda chi c'è. Dani, Dani. Guarda chi c'è, la nonna. Eu, farei, la nonna. Amore, seinen buoni. luz oz. Vuong si c'è.